Ma sono, dico la verità, sono un po' frastornato perché questa partita penso sia stata la più importante da quando gioco a calcio. È stata veramente una sofferenza quest'ultimo periodo, la verità. Ho fatto fatica a dormire veramente tutta la settimana. L'ho vissuta un po' male, sono sincero. E questo raggiungimento della salvezza, anche se non era il nostro obiettivo iniziale, è stata una grande liberazione per me. Vincenzo, sei stato il grande protagonista di questa serata, di questa partita, con il miracolo sull'Itteri. Tra l'altro questa sera eri anche il capitano della squadra, indossavi la fascia di capitano per l'assenza di Brugman. Dunque una responsabilità in più. Probabilmente dovesse partire Brugman, che sarà l'uomo mercato del Pescara. Il prossimo anno il capitano della squadra bianca-azzurra sarà Vincenzo Fiorillo. Lo spero col cuore. Sarebbe veramente un motivo di orgoglio per me. Questa sera, in una partita così delicata, la fascia di capitano veramente mi ha responsabilizzato ancora di più. È stato veramente un onore indossarla in un'occasione del genere. D'altra parte non so se Gaston rimarrà o meno. Se non ci dovesse essere io il capitano, lo farei con tutto me stesso. Quindi sta dicendo che tu rimani a Pescara? 100%. Ecco, fantastico. Però ci devi raccontare la parata sull'Itteri. La parata sull'Itteri è una parata distinta. Io ho giocato il secondo tempo in transagonistica. Ero anche meno lucido di tante altre partite perché, lo ammetto, per me andare in play-out, un'ipotetica retrocessione, sarebbe stato veramente come morire. Quindi io questa sera, dentro di me, anche se c'è poco da festeggiare, sono molto felice. È giusto festeggiare comunque questo traguardo che è un traguardo importante. È finito il campionato, si pensa alla prossima stagione, però tornando indietro a questo campionato, secondo te qual è stata la giornata più difficile, la partita più difficile, la giornata più complicata? È quella, oltre questa con il Venezia, la giornata migliore per il Pescara? Di giornate complicate purtroppo ce ne sono state un po'. Quello che devo ammettere è che il mister in questo ultimo periodo ci ha dato veramente una grandissima mano perché dopo i passi falsi che abbiamo fatto anche con la Provercelli potevamo avere un contraccolpo non da poco ma lui è riuscito sempre a trasmetterci un mix tra la carica e la serenità Cosa che non era accaduta con Zeman, perché? Quello l'abbiamo già detto, nel senso che quando più componenti non funzionano non era Zeman, non era la squadra Nel senso che il mister cercava determinate caratteristiche che magari non ci sono state all'interno della squadra e quindi fare le cose a metà è venuto fuori un qualcosa di poco produttivo Mentre devo ammettere che negli ultimi due mesi abbiamo lavorato tanto e oggi una parte di questa salvezza importante penso vada data a questo signore che è il mister perché ci ha veramente trainato Se Fiorillo fosse un dirigente lo confermerebbe? Sì, sono sincero, non sta a me dirlo ma io da giocatore lo devo ringraziare per quello che ci ha dato quindi non posso che parlarne bene sia sul lato umano che su quello professionale Grazie a Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara